Alla mano vittoria netta dell'Albatro contro il Rubiera proiettato verso i play-out. La Team Network Albatro vince nettamente contro il Rubiera e conclude il campionato in bellezza. I seracusani fanno proprio una partita giocata con grande determinazione e conclusa in scioltezza. Chiude con una vittoria. La Team Network Albatro a Seracusa finisce con un successo sul Rubiera. Partita senza storie per entrambe, seracusani ormai salvi ed emiliani ormai proiettati verso i play-out. Si festeggia Andrea Calvo alla sua ultima da giocatore. Il capitano lascia la palla a mano giocata con una prestazione che strappa gli applausi dei tifosi e dei compagni di squadra. Partita che scorre senza grossi patemi, Rubiera che lascia a casa Rivi, della Santa, Vulevac e Ceccarini risparmiandoli per lo spareggio contro il Cingoli. Gli uomini di Garralda giocano senza forzare troppo concedendo alcuni spunti di bella palla a mano. Stagione chiusa e società che guarda già la prossima stagione. Si riparte dal tecnico Navarro.